E' così. I soldati erano solo l'inizio. Occupiamoci di questo comandante. Servono più informazioni. Fin dove arriva la corruzione? Potrebbe aver raggiunto anche la cerchia di Tolomeo. Non possiamo fidarci delle guardie. Da soli è impossibile. Ci serve il Fayum. Molti contadini non parleranno per paura dei soldati. Ma sono stanchi. Non ci vorrà molto per convincerli. Parlerò con il contadino minacciato dal capitano. Spargerò la voce. Muoversi su! Muoversi su! Ehi, so cos'è successo coi soldati. La signora Kenwood ha corso un bel rischio. Apprezzo ciò che ha fatto, ma non cambierà niente. Scusa, ma devo tornare al lavoro. Ho molti fuochi da accendere. Posso aiutarti? Che stai facendo? Accendo i fuochi. Sei un gran testardo, vero? Rati donerà raccolti abbondanti, vedrai. Fatto! È arrivato il momento di ribellarsi a quei soldati. Otefres lotterà con voi. Otefres? Ci ha abbandonati da tempo. Suo padre era un brav'uomo. Ha dato al figlio un nome egizio. E ci ha fatto piacere. Ma non poteva dargli un cuore egizio. Otefres nella nostra lingua significa soddisfatto. Ma lui non l'ho mai stato. Ci ha abbandonati in mezzo alle iene, ai coccodrilli. Ma i coccodrilli possono morire. Il capitano è morto. Su, fratello. Spargi la voce. Hai ucciso il capitano. Oh, sei davvero un pazzo. Va bene. Se ci sei anche tu, conta su di me. Spargerò la voce. Spargerò la voce. Non credevo fossimo a questo punto. Cioè, sapevo che c'erano problemi. Ma questo no. È solo colpa mia. Non volevo la responsabilità del Fayoum. È stata un'eredità forzata. Io amavo la mia nave, le mie avventure. Ma... Ora capisco. Scegliere è possibile. E io sono ancora vivo. Sono nella villa. Sul retro. Voi, seguitemi. Soldati! Dove sei? Dove sei? Infame! Vieni giù! Parliamone! Direi che la decisione è già presa. Dai, fratello. Facciamo parlare... Potrei intagliare... Potrei intagliare la gola. Potrei intagliarmi la tua morte. Ma ho di me che va a fare. Ti guardo le spalle! Fatti ammazzare! L'aquila è impazzita! È bello riaverti con me, fratello. Venite a morire, cani! Ha una spada! Prendetelo! Grosso sballo. Vecchio. Ti batti bene per essere un vecchio. Non sono ancora decrepito. Beh, ce ne siamo accorti. Ma non basterà. Tra poco arriveranno altri soldati. Ho ereditato molto di più dell'abilità con la spada. Assolderò un esercito, se serve. Forse ho un'idea migliore. Bayek, mi accompagneresti in un breve viaggio?